Buongiorno a tutti, oggi facciamo un esperimento nuovo. Provo a analizzare una partita giocata da me come faccio normalmente. Quindi non tanto per mostrare a voi come è andata la partita e gli errori più grossi, ma quello che cerco io in una partita. Spero che la cosa vi possa interessare, almeno a me sicuramente interesserebbe vedere come giocatori forti analizzano le loro partite. Quindi spero che sia interessante anche per voi. Allora, prima cosa che faccio finita la partita, lancio un'analisi veloce a livello BIMAB per avere un'idea del livello di gioco. Diciamo che normalmente non riesco a valutare se ho giocato bene o male. È una delle cose che non mi riesce. Ad esempio, dopo questa partita, che ho perso mi sembra 15 a 3 o qualcosa del genere, o 13 a 5, vabbè, poi vediamo. È stata ancora più difficile perché il mio avversario ha avuto dei dadi abbastanza buoni e quindi la sensazione era una sensazione di impotenza, di non riuscire a realizzare niente. Qualunque cosa tentassi, andava male. Quindi in questi casi per me è ancora più difficile capire se ho fatto grossi errori oppure no. Una volta vista l'analisi a livello BIMAB, io lancio quella a livello più approfondito, a livello XG++ che dura parecchio tempo e nel frattempo do uno sguardo alla partita. Però poi l'analisi più approfondita la faccio con le analisi di XG a livello più alto. Quindi adesso noi partiamo con le analisi a livello massimo e vediamo un po' che cosa guardo in queste analisi. Allora, prima cosa vi faccio vedere lo schema riassuntivo, quindi prima cosa guardo il PR e vediamo che entrambi abbiamo giocato piuttosto bene direi, 4 e 17, 4 e 18. Se giocassi sempre così ci metterei sicuramente la firma. Abbiamo giocato bene sia le mosse che il cubo. Quindi sicuramente è pienamente soddisfacente. Poi, vabbè, in questo caso guardo anche la fortuna. Vedete dove dice Jokers, poi Luck Cost. Ma giusto perché appunto ho avuto questa sensazione di impotenza. In effetti, vabbè, si vede che il Luck Rate è meno 6 per cui sicuramente non avevo grosse possibilità di vittoria. O almeno non certo con un avversario forte come Andrea De Zandonati che è stato campione italiano, l'anno scorso è arrivato in finale. Insomma, è sicuramente un giocatore molto molto forte per cui quando ci sono queste differenze di fortuna la partita è chiusa. Però, indipendentemente da quello che mi interessa relativamente, mi interessa capire se ci sono degli spunti per imparare qualcosa. Andiamo a vedere un po'. Io non guardo gli errori, guardo tutta la partita mossa per mossa. Magari andando abbastanza veloce quando le mosse sono più o meno scontate e soffermandomi quando c'è qualcosa di interessante. Non solo se si tratta di un errore ma anche se mi ricordo che è stata una scelta abbastanza sofferta in partita. Quindi anche se ho fatto la scelta giusta mi soffermo per vedere un po' le alternative. Ok, andiamo avanti. Prime mosse abbastanza, direi, obbligate quindi non sono particolarmente interessanti. Ecco, doppio 6 c'è già la prima scelta in cui posso o giocare la mossa che ho giocato io oppure andare avanti. Sicuramente devo portare avanti i due runner. L'altra possibilità è quella di fare il bar. Allora, la mossa che ho giocato io va bene sicuramente quando arrivo con un vantaggio in corsa notevole per cui mi conviene non avere il problema delle due pedine sul 16 da portare avanti. ma nel nostro caso il vantaggio dopo il tiro è solo di 7 pip per cui è più importante invece fare il bar point. Infatti vedete che l'avversario tenta subito la fuga perché dopo il tiro ha 3 pip di vantaggio. Non colpisco quindi a questo punto diventa già subito una corsa. E in questi casi quello che faccio è tenere sott'occhio che poi giocando online è molto semplice tenere sott'occhio il pip count per vedere se ci sono possibilità di raddoppiare. Per il momento la corsa è sostanzialmente pari quindi nessuna possibilità di raddoppio. Ecco adesso prima prima occasione in cui controllare un po' meglio sono 105 pip con 7 pip di vantaggio che però sono ancora troppo pochi perché ricordate abbiamo visto per cubare serve un 8% di vantaggio quindi su 105 almeno 8 pip tra 8 e 9 quindi ancora è presto. Infatti vedete che ci conferma XG che cubare sarebbe un errore da 16 millesimi anche se abbiamo il 70% di possibilità di vittoria. perché sarebbe un errore? Sarebbe un errore perché la situazione si può ribaltare molto facilmente per cui dare all'avversario il possesso del cubo è un è uno svantaggio importante. Quindi 7 per me 8 per lui quindi ovviamente non può essere un cubo adesso 2-1 tiro non molto fortunato 5-4 6-2 adesso altro controllo ma sicuramente non non posso essere in situazione di cubo infatti vedete su 86 pip ne ho solo 5 di vantaggio comunque siamo sempre abbastanza vicini sono 35 millesimi 6-5 questo è un ottimo tiro 5-2 e a questo punto invece devo guardare con molta attenzione ho 75 pip e 9 pip di vantaggio per cui 75 l'8 cioè 9 pip di vantaggio sono il 12% per cui non c'è alcun dubbio che devo cubare e il il dubbio è soltanto se sia un un take on pass ma è un problema più che altro dell'avversario diciamo che da una rapida analisi essendo intorno al 12% potrebbe essere un borderline take ma è abbastanza al limite tra take e pass io propenderei per il take il mio avversario invece ha passato xg dice che è un take di 55 millesimi quindi leggero errore dell'avversario di Andrea secondo game parte bene Andrea con 3-1 6-2 3-2 4-1 ecco qua la prima mossa che mi viene io gioco sempre tendo sempre a giocare le mosse prudenti 11-7 8-7 facendo il bar ma l'occasione di colpire due pedine è ghiotta e quindi ho colpito possiamo vedere che l'xg conferma che questa mossa è migliore per 32 millesimi rispetto all'altra 5-2 per fortuna non vengo colpito 4-3 qua ci ho pensato abbastanza perché la prima il primo impeto è quello di coprire la pedina sul 3 ma poi rimane scoperta la pedina sul casa 11 si potrei colpire quella sul 2 ma non sono ancora in posizione da tentare un blitz per cui ho preferito invece la copertura fare fare casa 11 anche qui ho pensato abbastanza perché non voglio lasciare il blot sulla casa 3 ma posso coprirlo solo con la pedina dall'8 ma abbandonerei la casa 8 e lascerei o il blot sulla casa 8 o dovrei impilare la pedina sul 6 cosa che non mi piaceva per cui anche se fare casa 1 inizio partita non è una cosa che faccio volentieri ho valutato che che appunto fare casa 1 fosse la scelta meno peggiore e infatti xg conferma 3 2 ecco questo è un punto assolutamente interessante io ho giocato la mossa apparentemente direi quasi scontata ma non ho minimamente preso in considerazione invece la mossa di xg che è perfettamente logica perché è perfettamente logica allora xg colpisce sulla cioè fa casa 2 perché casa 2 non è una casa particolarmente appetibile sicuramente meglio la casa 4 però sta mettendo l'avversario sul bar e soprattutto sicuramente l'intenzione non è quella di fare un blitz perché non ha le pedine per per blizzare dovrebbe essere molto fortunato semplicemente colpendo sta rompendo il tiro all'avversario che ha parecchie pedine pronte per costruire case interessanti come il bar o casa 4 per cui invece la la mossa di xg impedisce questo per questo motivo è la mossa più forte assolutamente non l'ho presa in considerazione qua Andrea fa un errore abbastanza analogo nel senso che non colpisce la la mia pedina in partita non ci avevo minimamente pensato perché pensare di switchare dall'ottima casa 5 e la casa 3 è qualcosa che non mi viene per niente naturale però c'è da dire che il nero ha 4 6 8 10 11 pedine in zona d'attacco per cui colpire è assolutamente promettente anche perché ha ben 3 pedine pronte 3 costruttori pronti per rifare casa 5 o per colpire eventualmente lose la pedina che andasse su casa 5 quindi sarebbe stata meglio e infatti xg dà un errore da 70 6-3 qui altra altra scelta non facile la prima mossa che mi è venuta in mente è fare casa 5 che è sicuramente una buona una buona scelta ma non non mi andava a lasciare la smontare casa 8 e lasciare la pedina a colpo a colpo diretto in realtà la sto lasciando a colpo diretto sul 2 quindi non è un grosso miglioramento anche perché la casa 2 non mi interessa è presto per tentare un blitz e quindi sicuramente è migliore la mossa la mossa di xg infatti vedete dà un errore alla mia da 58 Andrea colpisce e io per fortuna mi ancoro perché la situazione incominciava a diventare rischiosa mi ancoro e mi trovo di nuovo con la scelta se colpire ancora su casa 2 oppure venire avanti sulla casa 7 questa volta ho evitato di colpire su casa 2 anche perché avrei comunque smontato casa 8 quindi la posizione non mi piaceva e ho accettato il rischio di essere colpito su casa 7 però col vantaggio che nel caso che non venga colpito ho delle delle buone prospettive di contenere la pedina avversaria mi ha colpito quindi rientro e colpisco lui danza e quindi riesco a coprire la pedina sul bar 3 2 a questo punto ho una buona posizione d'attacco ma 3 pedina indietro con un prime da 5 bucato che assolutamente non non mi danno grandi prospettive infatti vedete che che dice che sono nettamente in svantaggio anche perché Andrea ha solo una pedina indietro io ne ho ben 3 ecco questa è un'altra mossa un altro errore tipico allora in base a quello che abbiamo detto il mio grosso problema sono le pedine arretrate quindi anche se portare una pedina sul 18 significa quasi condannarla a essere colpita è la scelta migliore quella che ho giocato io 11 7 8 6 è troppo passiva e non dà alcuna alcuna possibilità vedete errore da 104 Andrea tira un 6 4 scappa via doppio 1 faccio casa 5 6 1 chiude il prime da 6 a questo punto l'unico mio obiettivo ragionevole è quello di evitare di subire un gammon le mosse sono all'incirca obbligate 5 2 sono obbligato a scappare via ma lo faccio abbastanza volentieri qui va bene era meglio portare fuori una pedina ma non ci soffermiamo diciamo che di solito tendo più a guardare gli errori miei qui cominciano a esserci forti rischi di gammon ecco qua la scelta è tra scappar via per cercare di minimizzare i gammon o rimanere indietro per sperare che l'avversario tiri un 1 diciamo che le due mosse sono abbastanza abbastanza simili però XG conferma che la mia scelta è un po' migliore io ho valutato che in ogni caso i rischi di gammon erano elevati in entrambi i casi per cui ho preferito lasciarmi questa possibilità 2 1 tira fuori due pedine a questo punto 3 1 ecco qui il problema è più serio se voglio continuare ad avere la possibilità di colpire la pedina avversaria sto rinunciando quasi completamente alla possibilità di salvare il gammon nel caso non colpisca invece ho preferito correttamente cercare più o meno disperatamente di salvare il gammon 2 1 non è la mossa migliore e infatti ho iniziato il match con un bel gammon 4 a 0 per Andrea 3-3 standard 1-1 altro 3-3 e qui già pregustavo un cubo ma 4-3 mi ha tolto ogni fantasia qui qui 3-1 diciamo va bene la mossa che ho giocato io anche se l'altra sarebbe stata un po' migliore ma poco poco importante diciamo quando le differenze sono molto ridotte di solito non mi soffermo nell'analisi ottimo tiro di Andrea qui deve scoprire una pedina ma non colpisco ecco qua è un errore che ho ripetuto diverse volte e infatti questo è uno degli aspetti che possono essere interessanti di questa partita proprio perché è un errore ripetuto qui ho cercato di evitare di lasciare una pedina in presa però a costo cosa che avrei potuto fare giocando alla mossa di XG 10-2 a costo però di smontare la casa 6 che è una casa molto importante e quindi XG assolutamente non non apprezza la mia decisione oggettivamente riguardandola non è per niente per niente bella io ho fatto il conto di riuscire a a coprire successivamente casa 6 ma non è per niente scontato vedremo che questo errore lo ripeterò successivamente 3-1 si deve scoprire 6-4 sono riuscito a a coprire la casa 6 5 6-1 devo scoprirmi che mossa è obbligata Andrea colpisce colpisco anch'io e inizio a pensare se se devo cubare o se la posizione è too good sono per il cubo ma la risposta di Andrea mi toglie ogni fantasia io continuo a uscire ovviamente ho l'ancora che mi protegge per cui posso rischiare di essere colpito senza grossi problemi il doppio 4 è un ottimo tiro che mi porta anche leggermente in vantaggio in corsa e dopo questo tiro sto addirittura meglio 5 4 ecco un altro errore estremamente interessante qui ho giocato la mossa diciamo così naturale per minimizzare il rischio di essere colpito ma non ho minimamente pensato che era estremamente importante mantenere il contatto tra le mie pedine di modo che se l'avversario colpisce e ricordiamo che anche il blot sulla sua casa 4 da coprire rimane a tiro diretto nel caso appunto rientri e tiri un 6 quindi assolutamente sarebbe stato preferibile giocare la mossa suggerita da xg 17 11 4 2 o 17 11 5 3 sono praticamente identiche però mantenere la pedina a distanza di 6 questo diciamo che non ci ho pensato invece neanche un istante e ho giocato senza senza riflettere la mossa 17 9 quindi errore da 60 5 3 ecco questo è un punto interessante sono diciamo praticamente pari in corsa indietro di 2 posso colpire una pedina con tiro diretto e ho una casa molto forte ho stimato le mie possibilità di vittoria quindi il 30% se colpisco ragionevolmente il game è vinto quindi il 30% del rimanente 70% ho stimato all'incirca a spanne metà e metà per cui 30 più 35 ho stimato un 65% di possibilità di vittoria che vedete che è molto molto vicino xg da 64 80 più ovviamente anche delle possibilità di gammon nel caso che riesca a colpire per cui anche in considerazione del fatto che sono in svantaggio 4 a 1 ho deciso di cubare devo dire che un po' di tempo fa non avrei minimamente preso in considerazione l'ipotesi di cubare invece qui ho cubato abbastanza confidente e questo è un controllo che ho fatto assolutamente che sarebbe sfuggito se avessi guardato semplicemente gli errori perché ricordavo che in partita ci avevo pensato abbastanza e sono stato soddisfatto di vedere che la scelta era la scelta corretta non cubare sarebbe stato un errore da 120 non ho colpito e ovviamente a questo punto le mie possibilità sono in corsa e ho provato a giocare la corsa non sto correndo molto bene ecco a questo punto Andrea ha pensato se cubare o no e io a mia volta ho ragionato se in caso di cubo avessi dovuto accettare o no diciamo che il vantaggio è di 5 pip per Andrea su 40 pip quindi è poco più del 12% possiamo vedere che se andiamo a guardare le le formule danno praticamente quasi tutte un redouble pass appunto tranne torp che da un redouble take io sostanzialmente ero orientato per il pass e sono stato assolutamente contento nel vedere che Andrea non ha cubato ecco diciamo che l'unica l'unico aspetto che mi invogliava eventualmente ad accettare era il fatto che ero indietro di 4 a 1 nel punteggio e il cubo era già a 2 quindi sarebbe andato a 4 quindi questo poteva portare a un take andiamo a vedere infatti era un take abbastanza abbastanza netto proprio per il punteggio in realtà io adesso ho ragionato più che altro sulla sulla posizione non ricordo devo dire esattamente che cosa ho pensato in partita probabilmente per il punteggio avrei dovuto accettare in ogni caso ricordo che sono stato contento che Andrea non abbia cubato 6 a 3 1 a 1 a questo punto il il redouble è ovvio ed è un pass nettissimo qui non ho pensato minimamente sono indietro in corsa di 10 su 30 che insomma non dà nessuna possibilità per cui inizio in salita 6 a 1 per Andrea ecco un classico quesito allora è bianco ha portato in salvo le sue due i suoi due runner è in vantaggio in corsa di 20 pip a una situazione molto rigida una posizione molto rigida con un pilone da 6 sul 13 e uno da 5 sul 6 il fatto di essere nettamente in vantaggio in corsa porta a giocare una mossa sicura quindi impilare la sesta pedina sul 6 cosa che io ho fatto ma in realtà diciamo che la posizione diventa estremamente rigida per cui è preferibile invece colpire quindi smontare la montagna sul 13 quindi giocare 13 7 13 10 colpendo anche una pedina è vero che rimango con tre blot in giro però è l'unica scelta costruttiva infatti xg dà alla mia mossa troppo rigida un errore da 116 però gridgammon mi premia premia il mio errore con un 6 6 che in questi casi anche se la struttura è rigida ma con i doppi si riesce ad andare avanti abbastanza bene 1 6 rientra con una sola pedina a questo punto ho cubato senza senza neanche pensarci perché ho una bella una struttura che a questo punto è abbastanza a parte il pilone sul 6 è abbastanza promettente il bar point è molto forte e ho un vantaggio in corsa enorme di 58 per cui considerato che l'avversario ha una pedina sul bar il cubo è doveroso e in effetti è anche come vedete xg dà un pass da 170 3-2 ovviamente ha già un'ancora avanzata 3-3 porta nettamente in vantaggio Andrea 6-5 è vero che non è bello portare le pedine oltre l'ancora avversaria ma sostanzialmente non ho altre possibilità 6-4 non ha tiri interessanti Andrea per cui decide di scappare 3-2 ovviamente devo colpire 6-4 non è un gran tiro per cui mi devo accontentare di fare casa 4 non colpisco a questo punto Andrea ha un bel vantaggio 5-4 non piace a xg ma vabbè porta la pedina dal 6 all'1 non è un errore né grave né importante poi ripeto non mi soffermo di solito particolarmente a meno che non sia qualcosa di molto interessante sugli errori dell'avversario ecco qui ho cominciato a guardare sono indietro in corsa di 14 ma ho cominciato a pensare che se avessi avuto la possibilità probabilmente sarebbe stato opportuno scappare 2-2 la possibilità non c'è adesso ancora di più con la casa chiusa una fuga è ragionevole 6-5 adesso oltre che ragionevole è obbligata la mossa è forzata 2-1 vengo colpito anche se non è così scontato che la scelta sia la migliore in effetti la differenza è ridottissima chesg preferisce portare la pedina dal 6 al 3 senza colpire ma differenze di 11 millesimi quindi qui ho ragionato se fosse opportuno cubare anche in considerazione del punteggio abbastanza sfavorevole perché ovviamente ho 11 tiri che colpiscono e che mi fanno vincere il game con qualche possibilità di di gammon considerato che Andrea ha ancora 4 pedine da portare a casa oltre a quella che verrebbe colpita però c'è da dire che se non colpisco sono un svantaggio abbastanza netto per cui ho preferito non cubare anche se sapevo che eravamo lì insomma la differenza non poteva essere tantissima vedete che xg dice che no double per 4 millesimi danzo e qui è Andrea che cuba diciamo che ero un po' indeciso per il fatto che comunque la situazione non è bella infatti vedete che xg dà quasi il 70% di possibilità di vittoria ad Andrea però innanzitutto c'è la possibilità che l'avversario non riesca a coprire casa 1 e quindi abbia la possibilità anche di colpire e poi in ogni caso con la mia casa chiusa qualunque qualunque pedina riesca a colpire è una vittoria sicura per me per cui anche in considerazione del punteggio ho deciso che dovevo dovevo assolutamente accettare e infatti vedete che il xg dice che è un no double take passare sarebbe stato un blunder da 425 5 e 2 6 e 4 si libera da tutti i problemi quindi a questo punto 6 e 1 decido di scappar via perché ho valutato che rimanere indietro mi avrebbe dato pochissime possibilità di colpire e avrebbe diminuito parecchio le mie possibilità di corsa perché avrei aumentato il wastage infatti vedete che le prime mosse sono tutte con 20-14 appena appena migliore 20-14 8-7 rispetto a quella che ho giocato io ma differenza di 4 millesimi ecco dopo questo tiro ho incominciato a pensare alla possibilità di un ricubo che considerazione del punteggio 6-2 per l'avversario è estremamente interessante ecco qui che cosa succede ho 31 pip contro 26 dell'avversario quindi l'avversario è in vantaggio in corsa ha tirato fuori allora ha 4-6-7-9 pedine quindi ne ha tirato fuori 6 io c'ho 4-7-8 quindi ne ha tirato fuori una in più però ho due pedine sul 6 e due sul 5 e ragionevolmente non sono ancora un po' lontano dal cubo anche se ripeto il punteggio favorirebbe la decisione vedete che xg mi dà solo il 60% di possibilità di vittoria e considero un errore da 55 ricubare 6-1 ecco questo è un grave errore anche se xg dà un errore da 40 ma che cosa succede è importante che il 6 è forzato ma l'1 mi dava fastidio avere le tre pedine sul 2 per cui ho giocato subito 2-1 ma in realtà è molto più importante coprire il buco sul 4 questa non l'ho minimamente considerata non l'ho minimamente considerata e questa contribuisce questo errore contribuisce all'errore successivo che è un errore importante 3-1 ecco a questo punto siamo molto più in zona di cubo vedete 24 pip per me e 22 per l'avversario ma io ho 7 pedine da portare fuori contro le 7 dell'avversario ma sono al tiro sono al tiro e con una situazione di punteggio assolutamente favorevole io ho valutato che le possibilità di vittoria comunque non fossero tantissime e ho ho deciso di non di non cubare vedete che comunque siamo siamo lì in realtà è un non redouble per 3 millesimi 5-4 ecco qua pago profumatamente l'errore di prima 5-4 avrei portato fuori due pedine mentre invece qua col buco nel 4 ne porto fuori una sola 6-4 a questo punto avendo un'altra pedina fuori avrei sicuramente cubato qua non me la sono sentita perché ho comunque 6 pedine da portare fuori contro 5 dell'avversario e ci sono delle possibilità di di bucare chiaro che se non non buco riesco riesco a vincere molto probabilmente però non ho valutato che le possibilità di vittoria fossero tantissime allora qui c'è da dire che avrei potuto stimare esattamente le probabilità di vittoria perché vedete in base agli epc io ho un effective pip count che è di 2-8 inferiore rispetto all'avversario anzi no in più rispetto all'avversario per cui considerato i 4-1 per per il tiro ho un vantaggio di 1-3 che va moltiplicato per il coefficiente che nel caso di 26 in epc di 26 è 2 in corrispondenza di 105 3-55 4-36 5-26 quindi 5 per abbiamo detto 1-3 quindi ragionevolmente possibilità di vittoria intorno al 57% sotto il 60% c'è da dire che difficilmente l'avversario ha una possibilità di ricubo soprattutto questo questo punteggio per cui ci poteva anche stare il raddoppio in effetti vedete che le possibilità di vittoria le ho sottostimate xg da un 60% ecco il 60% che è abbastanza basso per cubare in realtà invece dice che è corretto il cubo ma di un 50 millesimi quindi non non mi colpevolizzo più di tanto è importante però invece considerare che se avessi fatto in precedenza la mossa giusta quindi portato la pedina dal 5 al 4 questo punto invece sarebbe stato un cubo assolutamente chiaro e avrei fatto 4 punti anziché 2 quindi conseguenza assolutamente importante adesso ovviamente è un double pass enorme e quindi ho incassato solo 2 punti quindi su un errore abbastanza banale e neanche gravissimo per xg però un errore che in questa situazione di punteggio col cubo a 2 è un errore pesante doppio 2 ottimo tiro di rientro 4-3 ovviamente faccio il golden 6-5 5-3 4-1 diciamo che xg che non è amante dei piloni suggerisce di prendere di colpire la pedina sull'1 ecco questa è una mossa apparentemente banale ma che mi ha dato soddisfazione vedere in analisi che è quella di xg la mossa che mi è venuta naturale perché portare le pedine dal 4 al 3 sinceramente non è non mi viene naturale perché le tre case 6-5 e 4 sono le tre case migliori quindi non è bello portare la pedina dal 4 al 3 ma la mossa naturale del 24 al 21 ha un grosso difetto il mio avversario è avanti in corsa e la pedina sull'1 considerato il fatto che la la sua posizione è estremamente rigida la sua pedina la mia pedina retrata il cosiddetto portiere è estremamente importante per cercare di colpire una sua pedina per cui ho optato anche se con una certa riluttanza nel tenere indietro il più possibile la pedina quindi sul 23 e portare avanti dal 4 al 3 3 2 4 2 qui altra scelta ricordate il discorso sullo smontare la casa 6 anche qua xg mi dà un errore da 104 allora c'è da dire che il fatto che la casa mia è forte la casa dell'avversario è assolutamente inesistente in più anche con un blot sulla casa 1 e io ho anche un ancora questo mi avrebbe dovuto suggerire di non smontare casa 6 e di scegliere tra 13 11 8 4 o 8 6 8 4 13 11 8 4 probabilmente è la la più naturale anche perché per colpirmi il nero deve lasciare comunque parecchi tiri di ritorno essendo il netto vantaggio in corsa avendo io tre pedine indietro essere colpito non è un problema e quindi l'avrei dovuta giocare senza senza esitare più di tanto e invece ho sbagliato in pieno quindi seconda volta che ho smontato casa 6 e qui sono stato anche punito perché il suo tiro 6 3 che è forse il tiro peggiore che potesse fare lo costringe a lasciare due blot ma se avessi giocato l'altra mossa quindi avessi mantenuto la mia casa forte con col punto 6 a questo punto probabilmente avrei deciso anzi avrei deciso sicuramente di cubare perché già qua ero molto molto tentato ma ho rinunciato perché per lo svantaggio in corsa vedete che un errore si un cinquantino non è tantissimo ma sicuramente avendo casa 6 avrei cubato quindi anche lì un errore non grave ma che poi ha delle ripercussioni doppio 6 questo è un ottimo tiro 4 3 ecco anche qua un errore neanche un errore non lo considera neanche un errore xg considera da 16 millesimi però concettualmente mi viene in mente direbbe fernando è un errore grave nel senso che ok il 2 e ovviamente vado a coprire casa 6 col 5 posso scegliere se rimanere indietro o andare avanti dal 23 al 18 dopo il tiro il doppio 6 non sono più indietro nella corsa per cui ovviamente la mia pedina sul 23 è una debolezza quindi andare sul 18 mi permette se non vengo colpito di portarla ragionevolmente al sicuro se vengo colpito mi dà molto probabilmente dei tiri per colpire di rientro con una casa molto forte e quindi sarebbe stata la scelta migliore tant'è vero che 5-1 adesso praticamente riesco ad uscire solo con un 5 o un 1-6 quindi sta diventando non agevole portare in salvo la mia pedina arretrata 4-3 doppio 3 ottimo tiro per per Andrea 3-1 cerco di far vedere la luce alla mia pedina arretrata 4-2 per fortuna non vengo colpito 6-3 riesco a scappar via è vero che sono un po' in ritardo in corsa ma assolutamente quella quella pedina è troppo troppo a rischio in più c'è da dire che l'avversario ha l'ancora sulla mia casa 10 che non è per niente scontato che riuscirà facilmente a scavalcare la mia mia postazione di controllo sul midpoint per cui diciamo che sicuramente 22-13 è la mossa corretta 4-1 4-4 vabbè chiude chiude il discorso è un double pass senza alcuna discussione e Andrea si porta sul 7-4 4-3 devo ovviamente colpire e portare avanti la pedina ero un po' indeciso tra giocare 24-20 e 8-5 ma innanzitutto la mossa è corretta anche in money game ma essendo indietro di punteggio assolutamente mi sono orientato su 13-9 8-5 senza grosse esitazioni ovviamente maledicendo la scelta dopo il doppio 4 dell'avversario 3-1 qui xg preferisce 8-5 6-5 che avevo preso in considerazione ma perché è vero che anche se lascio un il blot sulla casa 8 ho già 4 pedine indietro e quindi non è un grosso problema però ho preferito colpire ecco 4-3 qui inizialmente ho pensato subito all'ancora sul 20 poi mi son detto che comunque avendo tante pedine indietro volevo cercare del controgioco in realtà con 4 pedine indietro la cosa più importante è assicurarsi di una solida posizione difensiva quindi fare il golden point sarebbe stato assolutamente importante in realtà io ho stimato che con le pedine sul 24 e 23 sarei riuscito probabilmente a fare ugualmente il golden point diciamo che xg mi mi punisce sicuramente facendo il golden avrei potuto tenere la posizione comunque fossero andate le cose per parecchio tempo 3-2 qua xg suggerisce di colpire sul golden proprio per per evitare che che io riesca a costruirlo infatti 4-1 qui ho pensato anche a 9-5 e 6-5 ma assolutamente ho preferito fare il golden e casa 9 bloccando i 6 dell'avversario cioè qui avevo la scelta tra fare una cosa buona e farne due sicuramente buone ho scelto di farne due 6-1 qui era preferibile scappar via ecco qui sono stato molto indeciso perché mi piaceva parecchio 9-3 6-4 ma ho valutato preferibile cercare di mantenere anziché giocarmi tutto sull'attacco avendo 4 pedine indietro cercare di mantenere una struttura più più collegata e quindi ho giocato 23-15 che che poi è la mossa che xg considera migliore 4-3 e qui mi sono sì mi sono in parte pentito perché l'avversario è riuscito a fare un'ottima ancora sul mio bar point ma con 4-3 avrebbe anche colpito entrambe le mie due pedine 1-1 qui faccio casa 5 e ho portato in salvo la pedina anche se vabbè da come migliore xg portare una pedina dal 6 al 4 perché che cosa succede che la mia pedina sul 15 può essere colpita quasi solo dal dal suo midpoint ma che è strippato per cui non è non corre grossi rischi e quindi è più costruttiva più costruttivo splitare la casa 4 qui 2-1 ero un po' indeciso ma ho preferito anche essendo in ritardo in corsa far vedere la luce alla mia pedina arretrata e inoltre dare la possibilità di un maggior controllo dell'outfield ecco 6-4 ottimo tiro non mi piaceva tantissimo smontare la mia bellissima ancora sul golden point però assolutamente devo colpire a quel punto è logica e naturale portare avanti anche la seconda pedina pur pur essendo in ritardo in corsa adesso però il ritardo si riduce a 17 e strutturalmente la mia posizione è abbastanza forte infatti vedete che xg dice che il bianco sta meglio a questo punto 2-6 3-2 qua ero molto indeciso tra 16-14 8-5 è quella che ho giocato ma comunque la differenza non è tantissima 3-1 giustamente cioè giustamente fa a casa 5 quello che avrei fatto anch'io ma xg suggerisce invece se la sicura la safe 6-2 per non lasciare la pedina sull'otto scoperta qui sapevo che si stava avvicinando il momento di un eventuale cubo però mi è sembrato ancora presto 4-3 4-2 2-1 4-1 ancora non riesco a superare il prime da 4 6-4 ottimo ottimo tiro per Andrea qui altra occasione in cui smonto casa 6 non volevo lasciare pedine in presa però 9-5 è preferibile diciamo che smontare casa 6 mi mette in una situazione di estrema debolezza nella mia casa per cui al cubo di Andrea d'altra parte prevedibile mi sono messo a pensare e mi sono accorto che accettare era troppo rischioso e quindi ho passato passato correttamente perché vedete che il take sarebbe stato un errore da un cinquantino e d'altra parte con questa casa Andrea ha la possibilità o di colpirmi su casa 2 o di venire avanti senza rischiare più di tanto e quindi insomma il rischio il rischio di gammon è elevato 30% di gammon per cui ho deciso di passare 8-4 4-3 6-6 giusto per togliermi un po' di fantasia 6-5 5-1 qui ero indeciso essendo anche un po' indietro in corsa se provare a scappare con una pedina o giocare 8-2 6-2 le due pedine sulla casa 1 non mi piacevano tantissimo per cui ho giocato 20-14 che è la scelta corretta per xg 5-4 ovviamente devo scappare 4-1 non riesco a mettere in salvo la mia pedina qui la scelta era tra minimizzare le possibilità di essere colpito quindi portare la pedina sul 10 oppure giocare una mossa più costruttiva quindi slottando il 5 casa 5 ho scelto questa correttamente appunto secondo xg e sono stato punito perché è stato colpito con un 4-1 che non solo colpisce la pedina ma chiude libera i due blot chiudendo la quarta casa 5-4 sono rientrato ma non ho colpito e a questo punto mi sono trovato davanti a un double molto forte qua è il solito cioè il solito è uno dei miei grossi grossi problemi quindi in questo match abbiamo visto il problema di liberare con un po' troppa disinvoltura casa 6 quindi 3 blunder qui vediamo un altro problema che mi capita spesso in cui cado molto spesso non riuscire a valutare correttamente l'azione di cubo quando c'è uno svantaggio o vantaggio sensibile sul punteggio cioè riuscire a modulare il double point il take point in base al punteggio ed è un qualcosa su cui dovrò assolutamente lavorare perché qua mi sono giocato in questo match parecchie possibilità passando dei cubi che in situazione di punteggio pari sarebbero stati un pass clamoroso ma in questa situazione di punteggio vedete che xg mi dà un errore da 150 qui non ho passato al volo sapevo che poteva essere un take ma ho visto molti tiri assolutamente per me dico disastrosi ma quasi e quindi ho passato in realtà vedete che Andrea ha il 72% di possibilità di vittoria che sono tante e oltre un 25% di gemmon quindi situazione normale questo suggerisce una prudenza elevata ma se andiamo a vedere la situazione ecco quello che faccio abbastanza normalmente è quello di portare su un'altra istanza di xg la posizione è andare a vedere che cosa succede in money game ecco così lancio l'analisi e vedete che sarebbe stato un take da no sarebbe stato un pass anche questo però sinceramente non me lo ricordavo così forse mi sto confondendo fatemi ricontrollare no la posizione è questa e sarebbe stato un pass anche ah no scusate sarebbe stato un pass money game un pass da 80 in realtà io ricordavo 400 ma 400 probabilmente è nell'altra posizione assolutamente quindi ricordavo male quindi qui ho fatto la scelta corretta in posizione di situazione di money game ma avrei dovuto valutare che indietro di 8 4 nel punteggio questo mi avrebbe dovuto portare al take cioè passiamo da un pass da 80 a un take da 150 con questa differenza di punteggio quindi è estremamente importante penso che dovrò approfondire il il discorso su come cambia come cambiano double point e take point col punteggio e non è detto che non ci scappi anche un video un video didattico allora torniamo alla posizione andiamo avanti quindi 9 4 doppio 3 ottimo tiro ok a cui Andrea risponde con un doppio 4 3 1 molto buono qui ho pensato se colpire entrambe le pedine ma alla fine mi sono orientato per fare casa 5 perché assolutamente mi sembrava irrinunciabile in effetti fare il doppio hit sarebbe stato un errore da 160 doppio 2 anche qui rientro molto velenoso 4 1 6 3 colpisce 6 1 qui la scelta era se andare sul 18 oppure provare a colpire su casa 2 strutturalmente mi sarebbe piaciuta di più bar 18 ma non volevo facilitargli la possibilità di coprire casa 5 e quindi ho provato a a colpire a colpire il blot sulla il runner sulla casa 2 altro rientro con un 4 4 che mi stende completamente 1 1 mi lascia ancora qualche possibilità 2 1 3 1 4 1 questo è uno dei pochi errori grossi di Andrea qui xg suggerisce 13 9 8 7 perché avendo io 4 pedine sulla casa 1 fare il bar point è assolutamente importantissimo qui portare comunque la pedina sul sul 2 anche a me non piaceva riesce però comunque a occupare il bar point qui vabbè si è un errore ma limitato qui devo cercare disperatamente di evitare il gammon ecco qui curioso questa l'ho osservata anche se ripeto non guardo tantissimo agli errori dell'avversario qua xg suggerisce parte che suggeriva di cubare ma suggerisce 6 3 5 3 quindi lasciare un un tiro diretto volontariamente in cambio di un di un bear off molto più tranquillo in futuro non so in quanti avrebbero visto e giocato questa mossa io non di sicuro più 3 sicuramente con queste mosse non era una precauzione superflua questo 6 6 mi da qualche possibilità di salvare il gammon ecco qui ovviamente devo scappare via 2 2 1 giustamente colpisce e tira fuori la pedina 4 2 qui corsa disperata per evitare il gammon 5 5 1 aiuta e grazie a quel 5 1 sono riuscito ad evitare il gammon rimanendo ancora un po' in partita quindi 10 a 4 per andrea 4 2 avrei potuto colpire 13 7 ma avendo l'avversario casa più forte non avendo io un ancora ho preferito fare casa 4 anche essendo indietro col punteggio assolutamente mi sembrava più più solida e per fortuna perché 13 7 sarebbe stato un blunder da 170 ecco qui ho giocato inizialmente subito bar 22 che mi sembrava una buona scelta poi ho detto ma forse mi prendo il sicuro e faccio l'ancora sul 23 che però mi è sembrata un po' troppo passiva e alla fine poi mi sono orientato su bar 24 13 11 che mi sembrava che desse più gioco ma in realtà non ho considerato che la pedina in più sull'11 si è vero serve per puntare sulla casa 5 ma avere invece il runner avanzato sul 22 è assolutamente preferibile e mi vanca bene perché mi avrebbe colpito mi colpisce doppio 2 4 2 xg preferisce portare al sicuro la pedina arretrata dal 24 al 18 anziché colpire 4 1 2 2 mi chiude mi manda sul bar contro una casa da 5 però 1 1 è un ottimo tiro 5 4 5 1 devo lasciare ancora una pedina presa 6 4 altro blunder lasciando casa 6 cioè sembra la maledizione di questo di questo match che ho giocato a PR4 quindi errori ne ho fatto pochi ma lasciando casa 6 sicuramente ci ho lasciato parecchi parecchie parecchi punti di equity anche qua 6 4 sto sto smontandomi smontandomi la casa e in realtà quindi a parte che lui preferisce le altre possibilità lasciare un bloc nelle altre possibilità ma la mossa che a me è sembrata troppo rischiosa era 24 14 che è vero che aumenta le possibilità di gammon ma aumenta anche di tanto le possibilità di vittoria però diciamo che essendo poi lui 3 away se anche prendo gammon non è la fine del mondo e quindi sarebbe stata una scelta migliore ecco qua questo è il caso che ricordavo in cui Andrea ha cubato e qua mi è sembrato che effettivamente oltre al ritardo in corsa di 14 la sua casa interna fortissima il fatto che ragionevolmente rischio di scoprirmi ancora ho pensato che i rischi fossero un po' troppo elevati se andiamo a vedere XGT ci dice che Andrea ha l'80% di possibilità di vittoria e il 25% di gammon quindi tantissimo ma per il punteggio sarebbe stato un take quindi avendo passato ho fatto un blunder da 100 se andiamo a vedere ecco questo è quello che ricordavo ricordavo prima se andiamo a vedere e calcoliamo qual è l'azione di cubo corretta money game possiamo vedere appunto come ricordavo che mi sono confuso con l'altra posizione che il take sarebbe stato un errore da quasi 500 quindi io ho valutato diciamo correttamente la situazione money game ma non ho dato un peso sufficiente allo score e ho passato quindi anche qui vedete la differenza è che in questo punteggio il pass è un errore un blunder da 100 mentre invece punteggio pari c'è un money game il take sarebbe stato un blunder da quasi 500 sì sarebbe opportuno approfondire queste queste differenze del double point e take point col punteggio sto sbagliando un po' troppo andiamo avanti 11 4 ecco 6 4 qui ero un po' indeciso tra 8 2 e 6 2 ma ho anche 24 14 ma alla fine mi son detto che assolutamente anche in considerazione del punteggio dovevo dovevo colpire ho anche una buona casa qui ero indeciso tra 13 7 8 7 facendo il bar point e invece 8 2 3 2 che mi è sembrata mi è sembrato ad essere più possibilità di gammon in realtà era preferibile preferibile l'altra la differenza di gammon sono pochissime 0,2% mentre invece abbiamo un 2% in più di vittorie con col par point 5 5 mi punisce e mi sta distruggendo però riesco a rimettermi un po' in carreggiata mi colpisce ancora ecco 2 1 non è una scelta molto felice ci dà un blunder da 170 in realtà suggerisce come mossa migliore 24 21 cioè cercare di portare avanti le pedine arretrate sperando di coprire e chiudere chiudere la tavola anche in considerazione del fatto che un gammon sarebbe sarebbe la vittoria nel match 5 5 5 questo è un bel un bel dado per me un bel tiro mi rimette pienamente in partita ecco qui da questo momento ho cercato di stare attento per capire per cogliere l'eventuale momento per un cubo perché essendo così indietro di punteggio è chiaro che se si prospettano delle possibilità di gammon devo assolutamente cubare qui ho valutato che ancora fosse troppo presto perché ovviamente l'avversario ha un vantaggio in corsa enorme in più non posso neanche essere troppo disinvolto perché è una casa interna fortissima per cui non posso lasciare delle pedine scoperte o almeno devo minimizzare qui ci sono delle imperfezioni ma partite di contenimento sono difficilissime ecco questo 4-1 invece è un errore abbastanza abbastanza serio nel senso che avrei dovuto portare la pedina sul 10 in modo da avere un costruttore in più per la fondamentale casa 4 vedete 15 10 perché sono parecchio un ritardo in corsa quindi ogni volta che Andrea tira un 3 mi trovo in situazione di rischio molto elevato per cui è importante portare la pedina sul 10 anche a costo di rischiare un 6-3 e questo è un errore in effetti abbastanza evidente ci avrei potuto pensare qui ancora visto lo svantaggio in corsa ho pensato che il double fosse prematuro questo 5-3 anche questo non è un bel tiro perché in realtà non è più importante cercare di colpire la pedina avversaria se dovesse cercare di scappare che non costruire un prime e quindi vedete che xg suggerisce 13-10 12-7 che massimizza le pedine che coprono casa 4 e anche le possibilità di colpire in caso di fuga ecco qua è arrivato il momento in cui avrei potuto cubare e mi son lasciato sfuggire il momento in effetti è vero che siamo ancora in ritardo sono ancora in ritardo di 29 pip ma questo ritardo è anche molto fittizio perché il nero ha un wastage elevatissimo 5 pedine sull'1 4 sul 2 e quindi avrei potuto probabilmente cubare ma diciamo che sono sì no la differenza non è neanche tanto poca è quasi 80 quindi quasi un blunder in effetti in questi casi devo rischiare qualcosa e invece niente doppio 3 danza e a questo punto ho perso il mercato per cui 11 5 6 2 qui probabilmente per il punteggio preferisce 13 11 13 7 che effettivamente è una possibilità interessante ecco in questi casi io controllo ma è la differenza comunque 26 millesimi però per curiosità controllo per capire se money game sarebbe stato ugualmente la mossa migliore oppure no andiamo a vedere quindi mettiamo unlimited game e calcoliamo il risponso no vedete che qua preferisce 24 18 13 11 o 24 16 comunque sempre le differenze sono molto ridotte 3 1 avrebbe fatto xg avrebbe fatto il casa 5 se il 4 non gli piace tantissimo sarebbe andato sulla sul 7 proprio per cercare di rinforzare la posizione 6 5 devo ovviamente scappare anche qui stessa logica cercare di costruire in più ho un pilone da 6 sul midpoint per cui 15 9 13 11 per xg è la scelta migliore mi colpisce doppio 5 ottimo tiro di rientro xg alla mia mossa preferisce una mossa più aggressiva quindi portando avanti oltretutto la pedina dal mid dal pilone del mid in effetti era abbastanza logico ecco a questo punto ho avendo una casa abbastanza forte non avendo lui l'ancora avendo due blotti in giro oltre a quello sul 22 che è poco significativo ma che mi permette di colpire l'uso più tranquillo di attaccare quindi più tranquillo a questo punto ho deciso di cubare e effettivamente il cubo è assolutamente la scelta corretta non cubare sarebbe stato un errore da 264 vedete che ho il 63% di possibilità di vittoria e il 20% di Gaemon per cui in questo punteggio sono indietro 11-5 il cubo assolutamente è doveroso 6-4 riesco a colpire 4-4 tiro ottimo per lui ne ho fatto un po' tanti di rientri con un doppio e con questa si mette al sicuro dai rischi sostanzialmente di Gaemon ed è anche abbastanza pari in corsa cioè pari si fa per dire perché poi tira un 6-6 che sostanzialmente chiude chiude quasi il match adesso un vantaggio di 10 in corsa 2-2 mi sembra che da qui non ho più avuto molte possibilità 4-4 mi ha dato una tenue speranza ma anche 3-3 ma niente da fare e quindi diciamo che è terminato terminato il match torniamo alla allo schema finale e possiamo notare appunto due wrong pass due blunder di cubo sono mie due pass mentre invece ho giocato molto bene i double ho fatto dei miss da 175 ma su una sessantina di decisioni per cui ottimo e infatti nonostante i due blunder sul pass su sette decisioni di take ho giocato a livello world class il cubo per cui assolutamente molto molto positivo quindi che dire sono sicuramente contento di come ho giocato ma sono anche estremamente soddisfatto per aver individuato due punti su cui lavorare per per migliorare uno una maggiore attenzione sullo smontare la casa 6 due ancora sicuramente più importante capire l'influenza dello score sulla sulla cube action questo è veramente importantissimo ok diciamo che questo è tutto spero di non avervi annoiato anzi di avervi dato qualche spunto interessante grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima